abbiamo fatto shopping nel livigno ora siamo qui in albergo io sto misurando quello che ho comprato questi pantaloni per esempio grande qualità non costano tanto dopo faccio vedere prezzo anche maglietta quella marca da danza che molto molto fine nera classica maglietta vediamo quanto pantaloni costavano pantaloni costavano 43 euro io ho pagato mi sembra no 50 per cento di meno ma pagato 28 più o meno così e anche maglietta questa 22 euro ma con sconto 15 ma alta qualità proprio alta molto fine molto avete capito mio primo video scusate di emozione scusate di emozione